Musica Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Il centro di accoglienza della Croce Rossa di Jesolo andrà svuotato. A seguito delle ispezioni portate a termine prima dall'US4 e successivamente anche dal personale della prefettura, il prefetto Vittorio Zappalorto ha determinato che la struttura è inadeguata per ospitare i rifugiati in quarantena. Nonostante nei giorni scorsi il centro fosse stato commissariato alla stessa Croce Rossa che aveva provveduto alla sostituzione di personale e direttore, la gran gestione del numero di ospiti sta diventando problematica al punto da renderne necessario l'allontanamento. A metà luglio infatti oltre 40 ospiti risultarono positivi, ma l'impossibilità di rispettare le norme anti-covid ha determinato inevitabilmente la diffusione del virus. Per ora le persone positive al test del tampone rimarranno in isolamento all'interno del centro di Via Levantina, ma sono circa un centinaio gli ospiti negativi da ricollocare in altri centri. Di questi 25 hanno già trovato sistemazione, ma per i restanti 75 si sta ancora cercando una soluzione adeguata. Operazione questa, tutt'altro che semplice, vista la reticenza da parte dei sindaci ad offrire accoglienza ai migranti. E a commentare la questione in occasione della conferenza stampa di presentazione dei campionati italiani 2020 di ciclismo di ieri, è stato il governatore del Veneto Luca Zaia che ha dichiarato «Si tratta di una vicenda incomprensibile. La gestione della Croce Rossa per noi doveva essere una garanzia. Abbiamo scoperto il focolaio solo perché un ospite doveva subire un'operazione e abbiamo trovato tutti quei positivi. Questo significa che la gestione non è stata certamente fatta in maniera consona. I centri di accoglienza, come quello di Jesolo, ha proseguito poi Zaia, sono strutture anacronistiche dal punto di vista sanitario e un'aggregazione di questo tipo non è in linea con le norme anti-Covid. È inutile chiedere se devono esistere queste strutture. In questo caso si sono dimostrate un danno». Ma in generale la situazione in Italia rispetto alla diffusione del virus non è proprio delle migliori. Continua infatti ad aumentare il numero di contagi. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal Ministero della Salute, sono 402 nuovi casi, 6 in più rispetto a ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo invece il numero delle vittime, 6 in un giorno, a fronte delle 10 registrate lo scorso mercoledì. Complessivamente le vittime dall'inizio della pandemia sono 35.187. Il Ministero della Salute riguardisce che nonostante la situazione non sia critica, è necessario continuare a rispettare le misure di prevenzione e controllo adottate finora. Il monitoraggio ministeriale vede il Veneto al terzo posto tra le 12 regioni, alla pari con la provincia autonoma di Trento. Dopo diverso tempo, il bollettino emesso alle 17 di ieri sera da Azienda Zero regista il ricovero in terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre di un paziente positivo al coronavirus. Cambiamo ora argomento. Su nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, Pino Musolino lascia i panni di Presidente per vestire quelli di commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale. La scelta, dichiara il Ministero, è stata fatta per assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente. Il decreto della sua nomina dispone contestualmente lo scioglimento del comitato di gestione della stessa autorità, come previsto dalla legge 84 del 1994 per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto. Sui conti, infatti, va avanti da tempo una diatriba che vede da una parte Musolino e dall'altra i rappresentanti della regione e della città metropolitana, che fanno parte del comitato e che sono contrarie all'approvazione del bilancio e la cui opposizione ne sta di fatto impedendo il varo. Secondo alcuni, la nomina di Musolino sancirebbe il fallimento di una manovra definita politica. La deputata di Italia Viva, Sara Moretto, ritiene la bocciatura del bilancio da parte dei rappresentanti della regione e della città metropolitana una manovra messa in atto a discapito dei lavoratori della città. Pierpaolo Barretta, sottosegretario e candidato sindaco di Venezia, ha poi commentato Il tentativo di Brugnaro di bloccare il porto è fallito. La nomina del precedente amministratore a commissario garantisce la continuità dell'attività portuale e mette a riparo lavoratori e aziende da una paralisi che sarebbe stata gravissima. La scelta del Comune di far mancare il numero legale con esplicito obiettivo di provocare il commissariamento si è rivelata un boomerang. È previsto invece per le prossime settimane l'avviamento della procedura di evidenza pubblica per nominare i presidenti delle autorità portuali in scadenza. In un violento scontro tra un'auto e uno scooter, verso le 13 di oggi lunga via Equilio a Jesolo Lido ha perso la vita Roberto Borella, titolare dell'hotel Trento. Il forte impatto ha fatto sbalzare l'uomo dalla salla della sua Vespa 250 e il 56enne praticamente morto sul colpo. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Jesolo che stanno continuando le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'automobile coinvolta nello scontro una BMW PM, un 23enne residente a Ponte di Piave in provincia di Treviso, ora indagato per omicidio colposo. Gli accertamenti relativi all'assunzione di alcol o droghe stabiliranno se ci sono i presupposti per un'accusa di omicidio stradale. È morto invece a soli 29 anni Damiano Caravello, consigliere comunale di Noale, residente a Briana. A causa di una rara malattia epatica diagnosticata già nei primi mesi di vita, negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano drasticamente peggiorate. La malattia l'aveva portato poco meno che trentenne alla cirrosi epatica, condizione aggravatasi al punto da far sì che venisse inserito nella lista tra pianti. Il primo intervento era avvenuto presso l'ospedale di Padova lo scorso 13 luglio, ma ne erano seguite delle complicazioni irrisolvibili che hanno reso necessario un nuovo trapianto di fegato, arrivato in tempo, ma che purtroppo non è bastato a salvargli la vita. Ed anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora le ultime notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!